Le nuove tecnologie incideranno sempre di più, come stanno già incidendo, sul mondo del lavoro. Questo ha a che fare naturalmente con la nostra testimonianza cristiana. Bisogna saper creare, se esiste un'industria 4.0, lavoratori 4.0. Io credo che il tema vero del prossimo futuro e per alcuni aspetti anche dell'immediato presente sia proprio l'accrescimento delle competenze anche sul piano digitale nel mondo del lavoro. Non si può pensare, se quando ero ragazzo imparavo a fare il tornitore, vale ancora. No, devo imparare a stare dentro questo mondo. Non riesco io a pensare a starmene fuori. Io non sono mai stato un no global perché ho sempre pensato che non si poteva scendere dalla globalizzazione. Ma il problema è come starci dentro per cambiare le cose che non vanno. Così è la sfida del digitale, che è una sfida importante, che può anche portare dei risultati sul campo del lavoro. Se il piano calenda viene sviluppato in avanti da chiunque arriverà, può generare delle opportunità, però non può generare solo delle opportunità per l'impresa, per il profitto e per gli azionisti. Deve generare delle opportunità anche per chi lavora. E perché ci sia un'opportunità per chi lavora, occorre che sappiano cosa devono fare.